Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Erotoranked Sono qui in compagnia di Luca Ceribelli Ciao E con un team con un nome fantasioso Composto da Kyogri Veltal Allora, il motivo di questa scelta di leggendari è che non volevamo giocare Xerneas Perché in realtà entrambi avremmo voluto giocarlo Sì, esatto Mi aveva scritto tipo mezz'ora fa dicendo Oh, buildiamo E appena entra in vocale mi diceva Non buildiamo su Xerneas E ciao Mi sono rimasto un po' di merda, cioè cazzo Eh vabbè Vabbè, giochiamo i Veltal, Kyogre Con Kyogre, Baccona, Bulky I Veltal con Tailwind che regge Moonblast di Lele Cocospex con le tre mosse e un Roar random Perché non sapevo chi metterlo, dovevo metterlo in un team Oller le tre mosse non hanno Dazzling Blim dentro Non serve Dazzling Blim Hitmontop che è il nostro intimidate user di scelta Perché sotto Rain in Cine lo fa un po' schifo in effetti No, ma non è il fatto che si faccia schifo in Rain E Among Us, Citrus Fatto apposta per prendere il trait che io ho Senza Protect E' quello che giocavo nello scorso team Lo stesso, identico Boh, non ha fatto particolare attenzione E' lo stesso team, giocavo Xerndon Quello di Noz ai tempi Quello con Con Gotitel Quindi, vabbè, sì, insomma Faceva il suo lavoro Che si piglia trait che io ho da Moonblast E regge Moonblast più Flare Blitz Se è intimidito in Cine E se è careful, vabbè, in realtà Potrebbe anche regge E' un role di regge, lo credo Comunque, boh I Veltal tra l'altro ha full play e knock off Non ha Sucker Punch ma ha Tailwind Perché doppia mod è comoda qua Perché Kyogre non è min speed Kyogre ha un po' di investimenti Per superarlo di Colin Tailwind Poi, cosa ce ne facciamo? Non lo so, però, vabbè Ok, abbiamo beccato un giapponese Subito, dai 1562 Che gioca? Ma no, no, mi piace Coro, coro, sembra Oddio, c'è Palkia Abbiamo perso Abbiamo perso Non possiamo portare stacataka No, non abbiamo Come lo battiamo, Palkia? Boh, che cazzo Eh, abbiamo tolto Ah, i Dental Vabbè, allora Hitmontop? Per forza Ah, ma era e Button? E Jack Button, sì Sì, allora Boh, cioè, sinceramente Sì, I Veltal e Hitmontop ci potrebbe stare Poi dietro si può portare Tapu Koko e Among Us, direi Allora Among Us o io porterei Kyogre? Boh, sì, alla fine Se Among Us non c'ha Grass Sì, è abbastanza preso morto Però comunque Kyogre No, 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 no Grosso ha Grass È lo stesso di prima Però c'è lo stesso vecchio Però Kyogre comunque Perde da Perde da Coco Perde dall'Udicolo Eh, ma se mettiamo Se non ci rida la Tailwind In realtà possiamo anche Metterla noi E poi siamo più veloci di tutto Sì Cioè Si poteva anche provare a dare Coquivelta al diretto Con Dietrichmontop Per entrare e proteggere Se Kyogre e Scarf Però perdiamo subito Sì, quella anche Questa è Coppola Almeno con le Scarf Andiamo a fare così Sì Staccata che non la portiamo Sì, vabbè Perde dai tre prima Non è che gli fa bene Crobat Boh Perché l'80 Gli fa Superfag Sì, no Oltre a quello Poi tra l'altro C'è Airpower E non fa tanto Palkia Sì Tra l'altro non tocca Non tocca Palkia Cioè Non tocca Una parola Però comunque Noxa gli fa in realtà Però essendo sassi Sì, però Gyro Ball È resistito Ok Itmato P-Veltal Abbiamo fatto Itmato P-Veltal Allora Qua Beh, in realtà Sai cosa ti dico? Sì Che qua possiamo fare direttamente Tipo Oddio Allora Vendito ridotto così Secondo me Chiogra non è Scarf Siamo più vicini Siamo più veloci Con Itmonto Ci mancherebbe Sì Allora Ma con lo scombo Diretto su Incineral Più Tailwind Sì Cioè Alla fine lui farà Una delle due Se fa fake out Itmonto Dopo entra Chiogra E quindi va bene Sì Sì Cioè è vero che stiamo A meno uno con i Veltal Però vabbè Che se ne frega Fa comunque danni E toglie Ok fake out A questo punto Perché l'ha fatto L'ha fatto su Itmonto Ah vabbè Ci va anche bene Ah no A me va benissimo A meno non abbia fatto Vabbè Se ha fatto Taunt Sui Veltal Va bene lo stesso Perché poi tanto Comunque Incineral Quindi facciamo Origin Knockoff Su Incineral Direi Che se entra Chiogra Va bene Chiogra Tra l'altro Regge le spade A più due Se non è Boosting item Quindi questa è la spread Tailwind Ok va bene Sì Ok allora Sì Eh no Tra l'altro Molto bene Adesso possiamo Doppiare Appunto Incineral Secondo me Ci stavano No vabbè Probabilmente C'era Taunt Quindi poteva Io farei Origin E Knockoff Su Incineral A parte prima Knockoff Quindi comunque Se rimane Incineral Almeno si Mida Knockoff Poi ci pensiamo Insomma Mi spermettendo Ci prendiamo Non che io Su qualsiasi cosa Entri No vabbè Oddio Chiogra no Però Vabbè Chiogra si prende Comunque tanto Vabbè Siamo a meno uno Eh però Sì Comunque si prende Una slecca Se è Scarf E infatti parte Superfang Su Chiogra Ok Knockoff Intanto Uh Crittato L'ha crittato Eh no L'ho vista subito Che l'ha crittato Sì Vabbè È partita un po' Troppo forte Era Scarf Quindi Non ho capito Perché non l'avevi dato A quel punto A nostra discolpa Aretto Single target Origin pulse Sì Mi fa schifo Su Chiogra Wikibarry No L'ha papà Vabbè Adesso abbiamo vinto Credo Cioè nel senso Si tratta solo Di gestire bene Eh infatti Gestire bene Coco abbiamo vinto Sì alla fine Adesso perdiamo Da topo Coco Ok No Facciamo protect Con Chiogra E entriamo con Itmontop Se muore Se muore Sì Allora Io qui farei Protect Con Chiogra Switcherei Dentro Itmontop Sì sì Fai fake out Su Coco Perché Appunto abbiamo Origin pulse Comunque Significa che Ammazziamo Crobb Abbiamo Il turno dopo Anche se protegge Coco Abbiamo anche io Su quella slot Esatto A meno di miss Perché al massimo Taincineror dietro Sì sì Possiamo anche fare Fake out Cioè fake out E scaldo Diretto Poi di là Sì Qua Rischiamo Che faccia Super fang Più tibolt In realtà Super fang Dazzling Potrebbe Tra l'altro Dobbiamo pensare Al fatto che Chiogra Non ha gli hp Pari La prossima volta Vi metterlo pari Perché A meno Se si piglia Do super fang Va in bacca Thunder Di qua Muore Ok Non è spex Super fang Di là No di qua Si è messo Fatto doppio Ci va comunque bene Sì no va benissimo Ma tra l'altro Ha perso la try Sennò avremmo perso Hitmon top Eh sì Boh Forse non è Boh Qualsiasi cosa sia È stupido giocare In questo caso Coco Più veloce Del suo Cioè O almeno in time Con il suo crobat Tu qui fai fake out Origin Che non rischi L'unica cosa che rischiamo È quick guard Ma vabbè Nel caso Avesse quick guard Almeno lo stesso Nel caso avesse quick guard Vabbè Entriamo con Coco Dopo poi Sì Cioè il nostro Ok Ha deciso Ha deciso che perde Se non mi siamo Almeno Perché il mon top Credo non regga Origin pulse In Cina allora Se avvi forse Sì Boh Se Pascio regge Sicuro Allora vabbè Coco può Protegge Eh ma tra l'altro Ah no Credo che l'abbia saccato Qua in realtà Sì vabbè Se sacca Non va nemmeno così Ma Vediamo Ha saccato Vediamo un po' Che danni Avvi Avvi Molto bene in realtà Che sia Avvi Perché adesso Noi facciamo protect E switchiamo E switchi Coco Sì Sì metto Coco sopra Che tanto Se siamo più Cioè il turno dopo Possiamo fare Vols Sì Entriamo con Hitmontop di nuovo Sì Sì Era quello che Pensavo Vediamo Sì Cioè Questo team Perde tanto Se non portiamo Mobus Forse ci stava Portarlo Però comunque Va bene Mettiamo Coco Sì protect Sì protect Tapu Coco Comunque Spex non lo è È bulky Quindi potrebbe Tranquillamente Reggere anche Due thunder Ah voglio Se regge due thunder Coco dai È bulky Sì sì Questo Coco è bulky Cioè regge Dazzling a P2 Di Xernia Se regge Su terrain Take out Take out Arriva su Hitmontop Ok è buono Significa che il thunder È andato di là Sì esatto Ok adesso tirano via Chiogra The ring stop Boh allora Adesso Cioè decidi Cosa fare Allora Potresti anche Semplicemente fare Dazzling Non ho Dazzling io Abbiamo detto Che non abbiamo Dazzling Sì cazzo Boh allora Se n'è andata Quindi Si può anche Provare a farlo Missare Però No va bene Anche così In realtà Facciamo così Sì sì Facciamo Origin Vols Così significa Che Volswitch Lo devi fare Su Insiner Sì sì No che dopo Ti devi rischiare Il thunder Ogni volta Vabbè Tu fai Origin Volswitch Su Insiner Che Significa Che Prendi un Che io E E forse due Sì se lui Ti ammassa Ma tirerà via Coco No Grass Not Attenzione La tech Vediamo Dovremmo tenerla No No Crit È crit Giusto così È giusto così Dai Ma è giusto così Dai Ci sta che Abbia Ci ha critato Abbiamo critato anche noi Chiogre Di knockoff A meno uno Ok Non è che Andava Sì andava bene Però comunque Era il range Sarebbe stato il range Di un altro knockoff E non poteva proteggere Cioè Noi lì Facevamo Knockoff Origin Pulse E prendevamo Dopo i feio Quindi non era No che lo abbiamo Sucker Punch No con Sucker Punch Chiogre E non è in scacco Tra l'altro No vabbè Era comunque più lento Perché gli avevino Knockoffato Rientro con Coco Sì rientro con Coco Faccio fake out su Coco E vault switch su Crobat Sì Poi metto di nuovo Coco Faccio proprio Non lo so Vabbè vediamo Adesso ci pensiamo Però Perché poi più che altro Togliamo Cioè ci rimettiamo il campo Sennò fa un schifo Coco No vabbè Fai conto che appena finisce Il campo Significa che Non ammazza di Thunder Di Velt al Maio E allora Quando non faccio E lui Fermo Fermo Contro Ma quanto rimane Ultimo Ma fai comunque Volt switch Fai comunque Volt switch Ammazza Crobat No Fai Volt switch Per non mi schifo E ammazza Crobat Tanto comunque Che se è più veloce Poi gli facciamo Knockoff Così vediamo Che lo strumento Più veloce Penso che lo sia di sicuro Perché abbiamo Coco Veramente molto lento Ok non ha protetto Coco Ok va bene Fatta Taylor Credo Ok Sì Giusto così Però adesso possiamo fare Il ping and knockoff Sì Sì Ci sta Sì Ha senso Tanto comunque Coco Vincere 1v1 Credo Sì dovremmo vincerlo Ho fatto Cosa che non credo Tra l'altro Boh sì potrebbe darsi Che non ha bedrashin Eh ha fatto Crassnot Ha fatto thunder Avrà Volt switch Non ha visto Orbe Protect l'ha fatta anche Ha fatto protect Quindi non ha Non ha visto Volt switch In realtà però Non credo che ha shot Comunque Il ping and knockoff Allora ci sta Boh il ping and knockoff Sì Sì dai Tanto Anche se Piglia thunder Deve paralizzarci Oppure crittare Vai E' forte Counter a Coco Dazzling Ah ce l'ha Non ha protect Non ha Non ha Volt switch Non ha Volt switch E allora Devi farmi thunder Se no non mi shot E' il prossimo turno Eh sì Ecco Porca troia E' la sash Sì non shotta Beh ecco Qua forse Sucker punch Stava un po' più utile Però comunque Non mi shotta neanche Coco Col crit Faccio Volt switch E knockoff Ho vinto Sì sì Fagli grass Per il punto di stile No non so se lo shotto Cazzo sì Va bene Vedete Roar che bella Sotto Questa è la nostra risposta Exernius ragazzi Solida Non vediamo sogni Ma solide Risposta Exernius Perfetto Io ho vinto una partita Con questo team Io non credo Saremmo mai riusciti A vincerla incredibilmente Ma Grazie all'aiuto Ha avuto la grande idea di non portare l'udicolo Sì, io Infatti la Tailwind l'ha voluta mettere soltanto per l'udicolo In realtà, perché avevo paura tanto che Però, beh, insomma Meglio così Cioè, alla fine Secondo me quel crit di Kyogre Ha dato quasi più Ha dato più momentum a lui, perché comunque Era Scarf, non poteva proteggere Quindi non poteva proteggere Manco con Crobat Sì, perché altra moriva da un altro no Sì, appunto, perché si prendeva pure Origin Quindi il turno dopo avevamo safe Knock off più Origin e avevamo doppio che io Sì, quello è anche vero Però, beh, insomma Sì, avevamo doppio che io, non è che si potesse fare tanto Poi il turno dopo, semplicemente Proteggevamo Kyogre E buttavamo E buttavamo Hitmoto, poi facevamo Fake out Origin, o fake out Scald Ancora su Su Incineror Fa di più Scald? Scald e Origin Double target È diviso È per 0,75 In realtà credo che facciano Molto simile di danno È 110, no? Dovrebbe essere 110, sì Per 0,75 Fa 82,5 Fa leggermente di più Ma proprio poco Sì, perché Così facendo Avevamo safe Perché Probabilmente il nostro co Vinceva l'1v1 Contro il suo Sì, insomma C'è un evento Vai to thunder Perché Dazzling Glim Tra l'altro, vabbè Comunque non shotava Dazzling Glim Sì Probabilmente Cioè Non vorrei Non vorrei sbagliarmi Ma forse Cioè Con il dannetto Che si era preso Prima di fake out Forse dovrebbe Avrebbe dovuto morire Da due volswich Quindi E supponendo Comunque Che direggere Tranquillamente Due Rebojedo Dal Messico intanto Messico Il Mexico Minchia C'ha qui il fish C'ha qui il fish Oh cazzo C'ha qui il fish Ok, allora ragazzi Vabbè, allora Sto team perde Dai Vental Tutto Tranne Coco E Chiogre Perché E Chiogre Sto team perde Rax Ernest Più che altro Ma veramente tanto Sì Ah c'ha qui il fish Ma scusami Mi fa AIDS Ce l'ha? Sì c'ha AIDS Morto C'ha intimide Te Una volta Non ho contenta Perché mi aveva Si era preso Qualcosa tipo 30% Che non ho capito Come mi ha fatto AIDS In faccia E come la battiamo Sarina E chiogre In lead E Ivelta La mongus Come scusami Ivelta la mongus Ivelta la mongus Switch Chiogre E fai spora No è vero C'ha Coco Però comunque Come la battiamo? Va bene Non c'ha grass Su Coco Si Ah su amongus Anche Ah ok Allora Ivelta la mongus È safe Perché comunque Reggi tranquilli Dice beam Eh ma Si Chiogre E tapu Coco Eh si Eh però devo switch Ivelta subito Al turno 1 Metto a chiogre Si 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 Se si loca su spout Va molto bene Si se si loca su spout Ha perso Perché comunque Si prende 60% a minimo Anche di più da Da grass Si Anche perché Tanto Sarina non tocca Mongus Quindi Va bene Si Sarina non tocca Mongus E non tocca Manco Ivelta Per questo Cioè Gli fa Il giant kick Che qualche danno Gli lo fa Però 30% Non di più Eh Sarina Insomma Chiogre Sarina Ok Chiogre Sarina Si Ho messo Il mio amico Au Come la musica Quindi Enjoy Il mio amico Au Ok Allora Chiogre è Scarf Eh ma non me lo devi dire Non lo sapevo A parte Dark Aura Di Velt Che è più veloce Di Chiogre Non Scarf Quindi Sicuro È più veloce Boh Allora Grasnot Sì qua Grasnot Chiogre è il Trocchio più saccabile Comunque Sì ma Comunque Non è che sacchi Beh sì Dio si piglia Da Origin Pulse Sì Cioè il ping hand Wooterspot Comunque non se lo prende Benissimo Ma non fai il ping hand Avanti ai Veltal Deve fare Faint Infatti Infatti fa Faint Ancora meglio per noi Pensava che ci cascassi Wooterspot Eh niente Si è buttato via Il Chiogre Secondo me Però che danni Va bene Adesso metterei Veltal Su Chiogre E farei di nuovo Grasnot Ehm O anche Coco No Fai Fai Allora Probabilmente lui Entra di Coco No di Coco Non ci può entrare Quindi ci starebbe Fargli Spora Oppure anche semplicemente Entra di Coco Su Chiogre Allora Copri Fai Origin Spora Eh ma Chiogre è più lento di Sarina Sicuro? Eh sì Sarina arriva a 125 No? Eh noi siamo a 123 Mi sa Ah vabbè Te lo dico Te lo dico Aspetta 123 Sì siamo a 123 Boh allora Facciamo così Spora Entra di Di Veltal Ehm Spora Su Chiogre Oppure proteggi Proteggi e fai Spora No Forse No vabbè Veltal Eh non l'ho fatto in tempo Guardate Parti la Origin Pulse Ho messo Chiogre Ah Ti ando via Chiogre Ho messo Coco Wewe Vabbè Anche questa non è stata Una gran mossa Da parte sua Io mi aspettavo questa però Sì Onestamente E Power Whip Ah è più lento Ah è più veloce È più veloce Ok Morto Ha buttato via Coco Ha buttato da Spoon Coin No ha retto No è stas Vabbè Ha buttato comunque Come mi tocca a Mungus qua Power Whip Vabbè è morto E adesso entriamo con Eh se avessimo Sucker Punch Con Nivelta Entravamo facevamo Sucker Punch E Clear Smog Eh dovevamo fare Clear Smog qua Sì sì Su X Almeno Vabbè entriamo con Coco Sì Tanto è Sash Coco Sì Vedi Dazzling Link qua non era male Eh avrei Avrei Dazzling Link qua Stava bene Vabbè facciamo Volsi Sul Sarina E Clear Smog E Clear Smog Su Coco Sì Dovrebbe essere Quella che fa più danni Perché Coco Dovrebbe essere più veloce Del mio Quindi non mi piglio danni Sui vento Al decenti Sì Sì Se qua non ci fa Non ci facesse Dopo Coco Sarebbe Il top Perché Significa che saremo sicuri Di reagire Ha fatto il Pink and Thunder Di reagire Origin Pulse Eh Si è bloccata Su Mungus Ha fatto il Pink and Thunder Su Mungus Non basta No Non basterebbe mai No no E Sashi Però gli entra Chiogra di nuovo E il Pink and the Rage Impulse Mi tira giù tutto e due Sì Miss allora Io lo so Sì Forse Forse Non era La pregiusta fare Fare Forse Forse Il Clia Smog Andava su Di là Rimaneva Coco In campo Che non dava Tanto fastidio Sì No Allora Il turno 1 Il turno 2 Abbiamo time out Più che altro Quella era la cosa Sì Io avrei switchato via Dentro di nuovo Ivelta Che vabbè Non era proprio Una grande idea Però E adesso Che facciamo Boh Qua bisogna Seriamente Solo provare Allora Qui si potrebbe Provare a vincerla Posso dire una cosa Spando per prenderti Regenerator Eh Se facciamo a Mungus Facciamo un pro A te con Ivelta Eh Sì Non farà feint Perché se fa feint A Rage Impulse E appunto Quindi Ah no ma aspetta Ma Coco regge Regenerator Impulse Aspetta Mi hanno detto Appunto Sì sì Però non regge Helping hand Helping hand Ok va bene Allora Sei su Ivelta Eh lo so Ce la posso fare Occhio 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 Proteggi C'è la C'è la C'è la C'è la Sì Dovremmo Avere la presa Sì Qua comunque La play Doppia protect Però Non ce l'avevo Protegg C'è Ho doppia protect Ho doppia missa C'è allora Vediamo Sì ha fatto Bene Guarda il ping hand Ma il ping hand Non lo può fare Su di me Non mi ricordo mai Missa Non dovrebbe No se missa È pure peggio È pure peggio Qua C'è Onestamente Boh qua Prova Finisce la rain Tra l'altro Se finisce Se finisce La rain Allora Tiro dentro Mungus di nuovo Sì sì Perché finisce la rain Poi E prova la doppia Che qua Non cambia niente No io farei tailwind No perché Comunque ti ammazza Ma se mi sta Metto la tailwind Ho vinto però subito Eh Ma Anche se Anche se C'è L'importante È sopravvivere Tu fai doppia protect Così aumenti Le possibilità Di rimanere vivo A fine turno Vediamo Però se Se mi sta di nuovo Messa Scandaloso Vediamo Ah è però Ha fatto feint Ma su coco Credo Sì su coco Ok Ma non mi tirava giù Di origini impulsi Veltal Perché ha fatto sta play Sì appunto Questa era una play Di un po' di merda Adesso non mi tira più giù Vabbè comunque Cioè qua la dovresti vincere Semplicemente facendo Ridgepowder Tailwind In linea Che E no ma qui C'ha l'abilità Sì appunto È più veloce Di È più veloce Di chiogra Quindi Va prima Ma sei sicuro Che i Veltal Non muore E fai tailwind Il turno Il turno dopo Orange Impulse Va single target Poi Lo dovresti reggere E no C'è l'arena adesso Sì sì Ma comunque Boh Lo devi provare Tu Fireage Powder E proviamo a Tailwind Se ti entra Tailwind Hai win Sì perché poi Knock off su chiogra Thunder Su quillfish Sì Boh Vediamo che cosa fa Quel coso Non lo so Ho paura Poison Jab Credo di tenerla Dai Non penso No È orb Lo sapevo Fissa Abbiamo perso Ho messo la Tempile Ho messo la tempile GG Allora abbiamo vinto Oddio qui il fish è più lento Di Tapococo Speriamo Cazzo Gli faccio Vodrich Ho paura di missare Hai la raid Lo so Ma posso missare Lo stesso Non sapevo che Ivento fosse così Bulk Comunque No no È Bulk È Bulk Vabbè Allora knock off su chiogra È qua E thunder Su qui Sì Non sei a meno uno Quindi qualche Glielo prendi Anche senza meno uno C'è ancora lo strumento Sono black lassi Sì sì A parte thunder Salutiamo il pesce palla Ci scira Ciao bello Ciao È stato bello il tuo poison jab Lo metto in copertina sicuramente Lo aspettavo pure più grosso Cioè più piccolo quel coso Vabbè qua Sì alla fine il misty origin su coco ha aiutato Però Decisamente Decisamente Assolutamente Però te l'ho detto che abbiamo proprio molti problemi Con sta roba Sì Va bene ragazzi Allora se volete vedere questo Questo team in azione In un'altra rotto rank Magari con Staccataka shiny Per un attimo si è bloccato Se volete vedere di nuovo questo team Mi raccomando Lasciate Un leakets E noi ci vediamo Credo Poi prossimamente Questa va giovedì Quindi mi sa lunedì Con una rotto rank E credo sia sempre con Luca Adesso vedremo un po' un attimino Magari Magari aggiustiamo un po' il team Magari Aggiustiamo il team Togliendo i Veltal Togliendo Ochiogre Mettendo Xernias E Lunara Tipo O Grodon Va bene così Sì mettendo Mettendo due Uber decenti Va bene dai Abbiamo vinto comunque Queste due dai Il sogno è Beccare Xernias E fargli rovar con Coco Va bene dai Ci vediamo al prossimo episodio Ciao 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 Grazie a tutti